Io in realtà non ho molto da dire, è stato già detto tutto, comunque sono molto contenta di essere qui questa sera per celebrare questi anniversari ma sono molto grata a Bertilla per aver organizzato una così bella festa con così tanta gente perché gli anniversari sono ancora più belli, si sono vissuti con questo spirito di allegria e di compagnia è stata l'occasione per rivivere anche dei belli codi, abbiamo parlato, è proprio lo spirito giusto con il quale festeggiare questo traguardo molto importante carissima suora io vi ringrazio ancora perché comunque faccio parte dei vostri bambini quindi insomma vi sono molto grata e ringrazio tutti voi per aver creato questo spirito allegro e conviviale e sono sempre molto contenta di partecipare a questi eventi quindi un grande grazie va a Bertilla che con il suo tocco magico riesce a far convivere tutte queste persone in qualsiasi occasione con il sorriso sulle labbra perché vi vedo tutti allegri e contenti, questo credo sia un bello obiettivo raggiunto e naturalmente mi unisco ad invitarvi al prossimo nostro evento perché per noi è importante la partecipazione perché dà sicuramente un valore aggiunto sia per l'amministrazione che si spende per portare questi eventi ma soprattutto in primis proprio per le associazioni quindi il gruppo Bertilla di Le Tantante e Proloquo e quanti altri insomma tra i volontari collaboreranno per la buona riuscita dell'evento quindi grazie a tutti posso fare un grande ringraziamento a Renata che è sempre super attiva con le grazie grazie, grazie grazie a tutti e buona continuazione